C'è da dire che ci sono alcune attività sportive, alcuni sport in cui l'appoggio del piede è fondamentale, non certamente nel nuoto ma sicuramente nel calcio. Nel calcio come nel podismo, come nell'atletica, è molto importante l'appoggio del piede. Dall'appoggio del piede che parte una serie di discorsi, cioè di ritorno venoso e se ne parlerà, se ne è parlato già e se ne parlerà con gli esperti. Il ritorno venoso ma così anche una serie di problemi che possono diventare di ordine biomeccanica e possono predisporre o a overuse di certi distretti o a sicuramente patologie da overuse di altri.